Buon pomeriggio a tutti invece di passati di sport e ben ritrovati su Moellerino Sport Channel Io sono Alessandro e sono qui per parlarvi del GP Le Samen Ultima corsa di questo primo, tra virgolette, weekend allungato, in quanto ovviamente è martedì Comunque questo weekend allungato di apertura del calendario delle corse primaverili del Pave in Belgio Siamo partiti subito con la Home Loop di sabato, una corsa World Tour Siamo andati pian piano a scalare con la Courne, corsa Ors Category E quest'oggi con la corsa 1.1 appunto il GP Le Samen Ma non per questo, meno interessante La corsa è stata infatti molto divertente con tantissimi attacchi Tra i più attivi troviamo il duo della The Sonic Quick Step, Tim De Klerk e Florian Sanechal Vincitore della corsa l'anno scorso Ma per la Trek Segafredo troviamo anche Alex Kirsch con un Jasper Steuven un po' sottotono quest'oggi Molto bravo anche David Decker della Seg Racing Academy, vincitore della Ster Van Zolle se non sbaglio venerdì scorso Una corsa minore appunto olandese Un ottimo velocista della Seg Racing Academy 22enne Un ottimo talento, campione olandese Under 23 Tra i più attivi troviamo anche l'italiano Giacomo Nizzolo Giacomo Nizzolo della NTT che si è fatto trovare sempre nelle prime posizioni del gruppo Era sempre lì a seguire tutti gli attacchi di De Klerk, Sanechal, Steuven, Kirsch Ha seguito di tutto e di più sul pavè Poi purtroppo nel finale non so se erano le gambe, non so se ha sbagliato una curva Fatto sta che si è trovato troppo indietro e non è riuscito a fare una volata come si deve Peccato perché ha corso veramente benissimo fino a praticamente un chilometro dalla fine È un grande peccato ma tant'è Comunque una corsa molto interessante con quattro giri in un circuito con quattro settori di pavè Tutti piuttosto brevi ma alcuni anche piuttosto duri Con le tre stelle del chemin de Viery Che avendo anche diverse curve essendo anche leggermente in salita ha fatto parecchia selezione Nell'ultimo settore sulla Rue de Bellevue attacca Florian Sanechal È seguito da Alex Kirsch della Trek Segafredo e dal nostro Giacomo Nizzolo Si riporta sotto anche I Made Again, un altro tra quelli più attivi della Wanting Group Gobert Mentre va in difficoltà uno dei più pericolosi in volata ovvero Brian Cocard della Vital Concept Tra l'altro molto sfortunato perché ha avuto anche una foratura Foratura anche per Nicky Terch tra vincitore della corsa due anni fa e terzo l'anno scorso Che dunque non è potuto essere della partita anche se comunque secondo me Nicky Terch tra ormai non è più quello di due anni fa Penso sia anche vicino al momento del ritiro Comunque per quanto riguarda la volata lancia molto lungo Clement Venturini, troppo lungo Viene seguito da Decker, Decker che poi parte con la ruota I Made Again e Hugo Offsetter che brucia tutti Veramente una volata di alto livello, quella di Hugo Offsetter che praticamente ha staccato tutti di una bici e mezza Il corridore francese della Israel Cycling Academy dunque conquista la sua prima vittoria Con la maglia della formazione World Tour, Neo World Tour israeliana Davanti appunto I Made Again, secondo anche l'anno scorso dunque Corsa stregata per lui, per il giovane corridore della Circus Wontigobert Terza posizione per un ottimo David Decker Poi seguono Venturini, Seneschal e appunto il nostro Giacomo Nizzolo Completa nella top 10 Alex Kirsch e Gianni Vermersch e Tim De Klerk Il lungagnone della Destiny Quickstep che ha provato diversi attacchi ma forse un po' troppo telefonati Insomma non è riuscito a fare la differenza nonostante comunque avesse parecchie energie rimaste Comunque ragazzi direi che per questo video è tutto, vi invito a lasciare un commento, un piacere, iscrivervi Seguirci anche sulla nostra pagina Instagram e noi ci vediamo a un prossimo video Ah tra l'altro vi vorrei segnalare di fare molta attenzione a Lewis Askey Un corridore classe 2001 dunque un anno in più di me Che è il primo anno in una formazione Continental proveniente direttamente dagli Junior Vincitore della Roubaix Junior l'anno scorso Ha fatto veramente un ottimo attacco sul Chemin de Vieries Poi si è un po' perso nel finale, non ha i 200 km nelle gambe Ma ha fatto vedere che sul pavé ha delle ottime qualità Quindi attenzione al corridore della Grupa Maef DJ Continental Comunque ragazzi direi che per questo video è tutto Appunto vi invito a lasciare un commento, un piacere, iscrivetevi, iscrivetevi, se vi faccio anche la nostra pagina Instagram Questo l'ho già detto Noi ci vediamo a un prossimo video Grazie a tutti.